Grazie a tutti. La 32esima edizione della fiera intercomunale Expo Brianza. Sentiamo Pinuccio del Menico. La 32esima edizione è diventata un momento tanto atteso e devo dire che quest'anno il comitato organizzatore ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Perché sicuramente il 2012 è un anno molto difficile e molto complesso per le nostre imprese, per gli enti locali e quindi sono riusciti a organizzare una manifestazione come ogni anno bellissima, piena di espositori. E questo è un segnale forte ed inequivocabile che la Brianza non si arrende mai, accetta sempre le sfide, anche quelle più difficili. Io sono sicuro che alla fine le vincerà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.